Oh, eccoci qui! Allora, vediamo quante cose buone ci sono nella dispensa. In particolare la Nutella la prendo per me. Poi, le caramelle. Ah, c'è anche il pandoro, buono! Le caramelle... Allora, le caramelle una a me, una a Casper e una a Newman. Le dividerò per tre. Mmm, buoni dolci. Abbiamo detto il panettone, ma guarda questi tè che come sono prelibati. Devo dividerne un po'. Il Nutella Biredi, no! Questo, fenomenale. Questo però devo dividerlo con i gatti, non posso mangiare tutto io. I biscotti al cioccolato, e gocce... Eccoti Casper! Cosa volete voi due? Eh, Newman? Casper? Newman? Ma a voi non bastano i croccantini che vi ho dato? Boh! Parliamo di dolci, e dunque in quaresima parliamo di fioretti. Ciao Don Marco, ti voglio fare una domanda. Cosa hanno a che fare i fioretti della tradizione con la quaresima e la Pasqua? Ciao e grazie! Eccoci! Scusate, ma la musica di Alberto mi aveva ipnotizzato per un attimo. Ringrazio i nostri due piccoli amici per la domanda che ci hanno fatto stasera. Riguarda appunto i fioretti. Non quelli che si usano simili a delle spade, ma i fioretti della quaresima. Cosa sono? Sono dei propositi che ciascuno può scegliere liberamente per rinunciare a qualcosa, per esempio molte persone rinunciano ai dolci, e non si sa nemmeno perché, poveri dolcetti, che male hanno fatto? O meglio, per fare un'opera di bene, come andare a trovare i malati o in questo tempo di covid chiamarne uno ogni giorno. La tradizione dei fioretti è molto antica, è molto popolare, ma proprio Papa Francesco, la settimana scorsa, ci ha detto che più che fare fioretti, la quaresima è un tornare a Dio, o quantomeno un andare verso di Lui. Infatti, ci possono essere tante persone che hanno perso il senso dei fioretti. Non mangiano dolci in quaresima, ma magari poi non vanno in chiesa o rispondono male in casa. Meglio a questo punto evitare un fioretto e pregare di più. Io personalmente, più che privarmi di qualcosa, come avete visto che sono goloso, preferisco fare un'azione buona in più, come appunto chiamare qualcuno che so che non sta bene, come per esempio un nonno, per portargli i miei saluti, ma soprattutto per dargli la benedizione di Dio. Voi avete già scelto che fioretto fare? Ah, se avete pensato di non mangiare dolci, scrivetemelo. Vi mando il mio indirizzo, a cui potete inviare tutti i dolcetti e le prelibatezze che non volete più vedere fino a Pasqua. Io intanto, come vi ho detto, il fioretto dei dolci non lo faccio. E come vi avevo detto, ora mi mangio un po' di cioccolata.